Bene, sono molto contento di questo incontro che abbiamo vissuto. Mi sembra che è stato un passo importante in questa piattaforma, in questa rete che è insieme per l'Europa. Vedo che in questo momento che vive l'Europa, ma che vive anche il mondo, riscoprire la novità del Vangelo sia fondamentale, perché si vede, si intravede che è l'unica risposta ai grossi problemi della pace e della convivenza umana. E in questo senso anche l'agenda 2033 mi sembra providenziale perché ci mette davanti una prospettiva. Abbiamo dieci anni per dare dei passi decisivi verso l'unità. Se il 2033 ci trova più uniti, veramente possiamo essere una risposta. La vera risposta ai problemi del mondo è la risurrezione di Cristo, che è il fatto più decisivo della storia umana. Allora sono molto contento anche di dare questo messaggio e incoraggiare soprattutto a tutti quelli che stanno portando avanti questa iniziativa meravigliosa. Grazie, siamo uniti. Ciao ciao.